Questo rapporto con il maschile ho cercato di indagarlo e chiaramente chiedevo a questi compagni, ma scusa ma tu perché lo vuoi un figlio? Qual è il tuo poi desiderio? E mi sono sentita rispondere più e più volte, ma poi anche nel corso di ricerche che ho fatto per altri motivi dopo ho trovato questa risposta, insomma, devo lasciare qualcosa di mio in questo mondo, che è una risposta che ho visto anche in alcune testimonianze web doc, data proprio da uomini tra l'altro, che dicevano devo trasmettere qualcosa, devo lasciare qualcosa qui in questo mondo ed è come se quello che tu puoi trasmettere passa attraverso la tua biologia, non so, cioè a me questo pensiero mi ha sempre inquietato tantissimo, cioè il fatto che quello che potevo, se dovevo lasciare qualcosa, prima di tutto devo lasciare qualcosa davvero, ma perché, cioè potrei anche esserci sparire, cioè non la sento come una cosa obbligata, ma se proprio dovessi lasciare qualcosa, deve essere per forza un figlio che mi somiglia col mio DNA?